Come avete capito siamo nel prestigioso circuito automobilistico di Bucinasco Ah sì? Per il Grand Prix di Bucinasco È famosissimo Bene, allora questo, cari amici, è il momento dei motori Ma non c'entrano niente i trattori Lui è odiato dai controllori Ma molto amato dagli apicultori Ma per chi? Sapete chi è? Fachiro È il Fachiro Tandori Che sorpreso Ma cos'è? Lo portano al ring Ma che bollide Arrivare con la sua TS4K Stiamo inquinando Bucinasco, direi Esperimento riuscito Ma cosa? Non è caduto al Fachiro Scusi, che esperimento è? Era questo l'esperimento? Era questo l'esperimento? Ma no, sono arrivato in macchina Ah scusa, ma già uscire era una cosa bella Ma è stato affaticato e ha fatto due metri in macchina Ma ma ha spinta Ma non spingeva mica lei Ma ha ragione anche lei, benissimo Allora, grazie mille, sono molto felice di essere qui E grazie per aver insistito Ma guardi, non abbiamo insistito minimamente Qualcuno ha insistito Sono stato io forse? Eh, forse sì Non mi importa Sono molto contento anche se Diciamo che i miei esperimenti qui Non è che vengano proprio bene bene Sopra succede qualcosa che non funziona Eh, chissà cosa Perché c'è qualcuno Non faccio nomi Eh? Che rovina sempre tutto Chi sa chi è? Chi è? Chi rovina tutto? Io muoio! Eh, come vai? Morire, morire Ma cosa vuoi che sia nella vita? Cioè, va bene Ma insomma Parliamo dell'esibizione di questa sera Sì Quale sarà il numero? Quale è il numero? Chiama l'occhio interiore L'occhio interiore Cosa c'entra la macchina allora? Vabbè Adesso capirete perché dimostrerò che io posso vedere col mio occhio interiore Senza usare i miei occhi naturali Ah, praticamente E come funziona questo? Posso fare la domanda? Sì Ma lei per l'occhio interiore usa il collirio interiore? Ma sì Allora lei deve fare queste battute con i suoi amici Quando va in pizzeria Non ha amici, eh? Non ha amici, eh? Va bene Allora, posso essere bendato? Ma certo Ma volentieri, eh? Intanto dimostrerò praticamente che guardando con l'occhio interiore Sì Io userò un mezzo Sì Mi lancerò verso il muro E con l'occhio interiore senza i miei occhi Mi fermerò un centimetro preciso Ma con quella Formula 1 lì? Cioè con la macchina... No, questa qui la usa mia madre per andare a fare la spesa Ah sì? Perché usa le casse veloci Sì Questa è una battuta Poi dice a me Era per stemperare E con che cosa, scusi? Se non... Io userò un mezzo di ultima generazione Quello che si chiama un siluro praticamente Sì? E si chiama il Tandori 2 Tandori 2 Tandori 2 La vendetta Perché 2, scusi? Perché c'era anche il Tandori 1 Eh? L'ha testato un ingegnere Sì? E gli diamo un bacione all'ingegnere Ma no, certo Grazie per averci trovato Se è bello vuoi apparire Un po' devi morire Io ti lancerò quindi verso quel mulo No, scusi, scusi, scusi Guardi È di là È di là È di là Nord Allora io ci sono Scusi ma con quella schifezza Tandori 2 è quella merda Scusi Allora un po' di rispetto Questo l'ha fatto i più grandi ingegneri del mondo Sì, sei più piccoli Questo è un siluro Avevano altro da fare quel giorno Secondo me Eccoci Io ci sono Certo, rischia di farsi più male Eccoci Non mi succederà nulla praticamente Bene, possiamo ricapitolare per chi non ha capito Io per esempio Cioè noi per esempio Cioè lei andrà Chi è che sta parlando? Ah sì L'ho sentito con l'orecchio interiore Certo Cioè correrà verso quel muro Volentieri Sul suo bolide Con il suo bolide si fermerà proprio a un centimetro Beh Va bene, lo faccio io allora Va bene, va bene Tutto senza vedere, ricordiamo Con l'orecchio interiore, guarda Certo, certo Allora non appena la ragazza inizierà a sventolare Sta sventolando da mezz'ora Ma a parte questo Ma dovrò partire io Beh, sì Vada Vada, 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 vada Eh, sì Vada, ma come fa a guidare? No, sta andando dritto Vada, attenzione Si deve fermare Si deve fermare Non doveva frenare Arrivo Arrivo, ce l'ha bene Eccoli qua, sempre in diretta È sempre in diretta È vivo Allora, signor Facchino Tandori Facchino Tandori Allora, come sta? Tutto bene? Allora, la seconda destra Sempre dritto Quello è Piazza Cavun Non mi sembra lucidissimo Direi bene, no? Sì, bene Insomma Insomma Però posso dire una cosa in difesa del Pacchino Tandori? Sì Il suo terzo occhio, complimenti? Beh Funziona bene Sì Ho un piccolo buceo allo stomaco Mi riposo un secondo Ma si metta giù un attimo, sereno Ma va bene Sì, la facciamo riposare Comunque, amici Sì Tutto è bene Quel che finisce bene Ma cos'è che è finito bene? Scusi Sì, ragazzi Ma non vi ricordate? Che cosa? Avevamo deciso Questo muro Dovamo tirarlo giù Per fare un hop in spaz Sì, sì Va bene Ci siamo risparmiati I soldi dei muratori Perché i muratori Sai quando iniziano Ma non sai mai quando finiscono Quello sicuro Certo Perché la ragazza dietro Continua a sbendereare Sventolare Continua a sventolare Poi se le chiami sventole Si offendono Va bene Ciao Dal circuito di Mucinasco è tutto A voi c'è la pascione Grazie Torni in studio C'è la pascione